Eccoci e bentornati sul mio canale! Riproviamo a fare la DNA Bomb in live Ecco che già moriamo Oh porcaccia la miseria come ci hanno killato ragazzi Come ci hanno killati, attenzione, attenzione, attenzione come ci hanno... oh cacchio Perfetto, allora dato che tanti di voi me l'hanno chiesto di mettere quest'arma Che è la rigor col silenziatore, ho detto vediamo un po' come può andare Cacchio, sta uno qua, è passato, è passato Ok, l'ha ucciso te, bravissimo, andiamo qua Il problema sapete che c'è? E' che col silenziatore non è che muoiono benissimo, anzi muoiono per niente Ok, aspetta, aspetta che ce ne sta un altro Via 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 via, dobbiamo giocare solamente per la DNA ragazzi Disinteressiamoci proprio della partita, solamente lotta alla DNA Siamo a due ancora, porca miseria Perfetto, tre, cacchio, e no, dove stava questo? Ah già la miseria, non l'ho visto Ah eccolo, ok Allora ripartiamo della serie, ripartiamo, ripartiamo, ripartiamo La prossima comunque ragazzi E dai, non puoi essere sempre qua Guardalo, fenomeno, fenomeno vero Te sei che sei un fenomeno vero Ma chi è andato? Scappato, sa far giro Oh, oh, e basta, hai rotto l'anima Hai rotto la tua anima Aspetta Questo non c'è stato più camperato, perfetto Nammo, 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 ti carichiamo Ah, sono andato a cercare una partita Ma surban è praticamente impossibile riuscire a prendere la DNA Perché è una mappa difficilissima da giocare Se poi la gente rimane ferma affacciata alle finestre È già un altro paio di maniche A parte perderemo pure la partita Oh, ho visto qualcuno passare Ho visto passare qualcuno Il problema è che non c'ho ne manco la cosa, regà Non c'ho la propulsione furtiva Andiamo se riusciamo a prendere Civa Almeno a rimetterci in gara Via, via Che cacchio sta a fare questo? Regà, hai visto quello che stava a fare? Ma che cacchio sta a fare? Via, 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 via Via, 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 via Piano, 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 amante, rimaniamo su A, rimaniamo su A, sì, dai, 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 forse l'ho presa, dai, forse l'ho presa, ok, ok, vai, disturbo, e ovviamente i nemici tracciati, andiamo, 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 ho seguito tutte le vostre diritte per migliorare, il problema ragazzi non è tanto il migliorare, è... Cacchio, tocca a sattenti, a chi campera, oh cacchio, stanno arrivando, oh no, 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 tanto è passato questo, porca miseria, ero andata appena, ero appena partita in serie, comunque col silenziatore si riesce ad andare più facilmente in serie, anche se ci vogliono molti più colpi per ucciderne uno, Piano, ma questo tutta la partita così, regà, oh, piano, piano, cacchio stai, ecco li stanno qua, guardalo, guardalo, quello con la K, guardalo come campera questo qua, bravo, tutta la partita alla finestra, fatti tutta la partita alla finestra, grandissimo, ti stimo proprio fratello, ti stimo, ti stimo, Fatela tutta la partita, aspetta, stiamo a prendere un meglio, stiamo perdendo a... Dai, vedi se c'avevo un'altra arma, quella ce la saremmo fatta tranquillamente di kill, però il problema è il silenziatore che ovviamente dobbiamo utilizzare per aggirare i nemici, Però dai, non stiamo andando male, stiamo facendo 13-7 come... come punteggio, tipo un bel radio di due, il discorso è che c'è il problema che non si riesce bene a killare quando facciamo gli scontri ravvicinati, è quello che mi crea problemi, Comunque nella prossima, dato che in questa mi avete chiesto ovviamente la versione rigor, nella prossima faremo con la speak easy, quindi nella prossima non vi preoccupate che giocheremo con la speak easy, Devo decidere se rinunciare a resistenza oppure a propulsione furtiva per il discorso di mettere lo sciacallo, che ci servono ovviamente le munizioni, andiamo! Vediamo un po' di fare una gran bella partitozza anche se perdiamo, ma ecco il primo, perfetto, Cacchia, perfetta, No! Cavolo, questo perché ha visto i miei movimenti, ecco vedi perché ha visto i miei movimenti perché non ho propulsione furtiva, Aspetta che arrivo, aspetta che arrivo, non mi devo far vedere però, perfetto, Aspetta ce ne sta, oh, andò stava, Ah, sempre questo qua, fermo con sta K12, in tutti i punti della mappa, Benissimo, attento ce ne sta uno qua, attento ce ne sta uno qua, Perfetto, No! Questo è sempre alla finestra, questo se non sta alla finestra ragazzi non è contento, E basta, è rotto l'anima, che cacchio, e vabbè, vabbè, lui può darmi la cortellata in velocità, Aspetta, no era mio, era mio, Ah, cacchio, Killano troppo, killano troppo quelli senza, Aspetta, Yeah, rompe, Perfetto, andiamo su, andiamo su, andiamo su, andiamo su, Stanno ancora sopra, stanno, Attento, Che tu copri là, io copro, Oh, però devi morire, Che figata, Quando fanno ste kill mi fa, Ecco cane, come te killano ragazzi, Come ti killano, Aspetta che vado, Dai, E muori, Santo il cielo, Cacchio, Aspetta che ricarico, Dai, Mamma mia, Però, Perché loro due colpi, Perché loro due colpi, Mannaggia a me che mi sono a mente, Sta partita a silenziato, Oh, Oh, Perché mi sono a metter silenziato, Sto cercando di non saltare, Se state vedendo ragazzi, Perché non avendo proporzione furtiva, Mi vedono, Subito sulla mappa, E vabbè, Dai, Mi ammazzo uno, E mi è a fare uno dietro, O meglio, Cioè se mi auto ammazzai, Tipo alla batter, Oh, Vabbè, Però devi morire, Santo il cielo, Devi morire, Devi morire, Sta manna manco in serie D1, In questa, Oh, Tutti qua li trovo, Tutti ai lati delle mappe stanno, Non si muovono di una virgola, Non si muovono di una virgola, Via, 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 Oh, Pure ci siamo persi, Non devo correre, Se no si accorge che sto dietro, Via, Perfetto, Questa è la cosa bella, Dell'avere il silenziatore, Poi per il resto, È tutto un casino, Perché non riesce a vincere, A visto, Gli scontri ravvicinati, Tutto là è il problema, Però, Vai, Via, 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 Stanno qua, Stanno qua, Questa ci hanno praticamente dobbiato, Eh, Quando io non vado a prendere le bandiere, Ragazzi, È proprio una, È una partita senza senso, Bello, Oh, Oh, Tripla, Aspetta, Aspetta, Mamma mia, Finite le munizioni, Stava a fare la quadrupla, Sul finile, Che spettacolo, Che spettacolo, Il silenziatore, Tante volte, Come ti fa a fare delle, Via di qua, Via, 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 Corri, Corri amante, Corri amante, Ah, Questo è il nostro, Aspetta, C'è sempre questo con lanciamissili, Che ha rotto l'anima, Eh no, Sta ammazza a quell'altro, Ah, 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 Vai, Finita, Come siamo andati, 107 a 200, Qualche volta siamo arrivati vicino alle 5, Però vabbè, Era difficile questa, 26, 22, 4670 punti, Oh, Nonostante ciò, Ho pure preso, 7 bandiere, Va bene, Ragazzi, Spero che il video stasse, Questo è il vostro gradimento, Se vi è piaciuto, Iscrivetevi sul mio canale, Mettete un bel mi piace, Allo i miei video, E ci diamo contatti, Noi video, Sempre qui, Sempre sul mio canale,